La runa di Tyr. Eccola. Siamo dentro. Ma cos'è questo posto? Ne so quanto te, fratellino. Lo colpisco. L'albero. Siamo sotto la sala del viaggio tra i reni. Ma perché il suolo è sul soffitto? Le porte del regno sono speculari a quelle in alto. Vedo qualcosa. Lassù. Tyr usò la stessa magia per proteggere la runa nera. Dentro potrebbe esserci un indizio. Ah, accanto alla porta di Yotlin. Interessante. Ma ci arriviamo? Non da qui. Non da qui. Non da qui. Bene. Ci addentriamo sempre più. Quegli arazzi... sembrano arte dei giganti. Tyrby ha fatto per loro qualcosa di grosso. Wow. Questa che sono? Grazie.